Buongiorno 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 pino 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 buongiorno pino a umore un euro me lo dà complimenti zio per tirando per tirando buongiorno abbastanza bene grazie a ballarò come va a ballarò come va abbiamo qualche lamentela da fare abbiamo anche la mente la damara ballarò da pulire ci stiamo preparando ok speriamo bene ci dovrebbero aggiustare i ballati perché alcune ballate sono pericolose facciamo quattro filetti e poi li taglio di qua un attimo solo se lo prendiamo basta sta arrivando sei no c'è tutti i biciclacciati siamo tutti i biciclacciati allora questo di qua va bene giuseppe che ne pensi salmone monvergese fresco bello vivo però sei